Questo è Walter Veltroni. Veltroni le chiede di scendere in campo per usare un verbo berlusconiano a proposito dell'editore di Panorama e lei accetta, senatore del PD dal 2008 al 2013. Perché ha detto sì a Veltroni? Può sembrare banale ma ero veramente curioso. Cioè volevo andare a vedere. Non so se volevo misurarmi. Credo di aver avuto sin dall'inizio la consapevolezza che quel modo di entrare in politica, in Parlamento, era un modo legato a una pratica, che adesso quasi non c'è più, dei partiti, di prendere qualche personaggio un po' visibile e di usarlo come oggetto ornamentale. Quindi questo lo sapevo. Sapevo che avrei contato abbastanza poco. Lei perché ha chiuso con la politica? Io non ho affatto chiuso con la politica. No, no, ma nel senso che io scrivo dei libri, oltre a scrivere dei romanzi, io scrivo dei saggi che hanno un contenuto e credo anche un taglio fortemente politico. L'ultimo della gentilezza e del coraggio, l'ultimo saggio intendo, è dichiaratamente un manuale di suggerimenti per l'uso del potere. Ma quindi lei non esclude che un domani possa ritentare, diciamo, proprio di rientrare in Parlamento? Ma guardi, questa è una cosa che a me è stata già offerta e quando è capitato non mi è parso il momento giusto, soprattutto non mi sembrava di poter essere utile, un giro l'ho già fatto. Detto questo, per rispondere alla sua domanda, certo che non escludo, ove mai le circostanze fossero tali da farmi pensare, ma può essere utile, allora questo ci penserei seriamente.